eccoci qui ragazzi benvenuti in questo nuovo video video ferragostano quindi auguro a tutti i miei iscritti a tutti quelli che vedranno questo video e tutti i miei amici youtuber romanisti e anche a tutti i miei amici dei del gruppo tifosi del web un felice e sereno ferragosto in attesa in attesa del 17 di lunedì quando avverrà questo benedetto closing che sancirà finalmente l'ufficialità della nuova proprietà della roma con dan fritkin e soci di che parliamo oggi allora facciamo un video un po diverso oggi farò la lista ruolo per ruolo dei giocatori migliori comprati da james pallotta in questi nove anni di presidenza roma un una squadra da sogno smantellata naturalmente negli anni che però se fosse rimasta così come ve la dico io sicuramente un paio di scritti avremo vinti sicuramente sicuramente per cui bando alle ciance cominciamo subito con questa squadra di sogni modulo 4 3 3 poi ragazzi naturalmente mi dite la vostra cosa ne pensate se avreste messo altri calciatori se avessi cambiato il modulo però commentate mi fate sapere se questa squadra vi garba allora cominciamo subito con il portiere che non può non essere il grande allison becker ragazzi insieme a tancredi penso sia stato il portiere più forte della storia della roma non li possiamo mettere a confronto perché appartengono a due aeree diverse però è innegabile che allison becker portiere che è stato comprato dalla roma per circa 6 7 milioni di euro dal brasile fece il primo anno la panchina perché avevamo scesni in porta poi dopo il fine prestito di scesni giocò un solo anno da titolare nella roma 2017 2018 fornendo delle prestazioni strepitose ragazzi è inutile che vi dia che secondo me è uno dei tre portieri più forti del mondo forte tra i pali forti nelle uscite grande reattività bravissimo con i piedi un portiere veramente completo tersini i tessini sono stati grandi i grandi problemi maggiori problemi che avuto la roma di pallotta perché non è mai riuscito a prenderne veramente di superlativi però a mio modo di vedere i migliori sono stati a destra il grande maicon che arrivò a roma comunque in tarda età versi 23 34 anni rimarrò se non ricordo male un paio di stagioni ma diede veramente anche in diciamo non più giovanissimo un grande contributo sulla fascia destra della roma sicuramente a sinistra a sinistra mettiamo emerson palmieri emerson palmieri e naturalizzato italiano e un tersino anche lui di spinta come maicon un tersino che sicuramente avrebbe potuto giocare un po di più nella roma ma anche lui rimase un solo anno poi come spesso accade e venne venduto al celsi per 25 milioni di euro per fare cassa comunque secondo me erano i due tersini migliori che abbiamo avuto poi ne abbiamo avuti anche altri potevo mettere anche digna a sinistra che magari è stato è rimasto un solo anno a roma e fece bene o lo stesso coloro però secondo me ragazzi come rendimento questi due sono stati migliori coppia centrale di difesa e qui forse qualcuno mi farà qualche appunto ma secondo me la coppia del primo anno di di garcia sulla panchina della roma con una difesa che nelle prime dieci giornate di campionato con dieci vittorie prese un solo gol ragazzi quindi la mia coppia preferita è marchignos benatia marchignos arrivò preso da sabatini a 19 anni fece un solo anno a roma ma un anno strepitoso per un ragazzo di 19 anni infatti vedete cosa sta facendo nel psg che comunque può giocare a centrocampo in difesa dappertutto un giocatore meraviglioso un difensore meraviglioso che come al solito la roma dopo un solo anno vendette per 35 milioni di euro al pari san germain e medi benatia anche lui rimase un solo anno a roma perché poi puntò subito i piedi infatti tanti tanti tifosi della roma ce l'hanno con benatia perché non è voluto rimanere a roma ma secondo me anche lì per esigenze di bilancio fu venduto la vita sta sempre nel mezzo ragazzi venne venduto per una cifra vicina ai 30 35 milioni euro al bayermone dopo un solo anno ma quella coppia centrale ragazzi per me rimane la più forte che ha avuto la roma anche se poi abbiamo avuto altri difensori centrali di livello mano lass smolling quest'anno lo stesso rudiger che rimase un solo anno non fece male però per me la coppia centrale è questa i tre di centrocampo allora due vertici bassi a diciamo tenere il centrocampo e uno un po più avanzato a costruire il gioco il primo della lista ragazzi è il grande kevin lavatrice strottmann un giocatore meraviglioso ragazzi il primo anno che venne a roma lo stesso primo anno di di garzia fece delle cose stratosferiche un giocatore completo a centrocampo un giocatore veramente completo che purtroppo dopo l'infortunio una serie di infortuni a catena catta molto gravi che ha avuto a roma si perse un po' si perse un po' perché comunque non tornò mai più quello di prima ma è un giocatore che è rimasto quattro anni se non ricordo male a roma e che ha dato un grandissimo contributo alla squadra giallorossa e ha sempre dimostrato un grandissimo attaccamento ai colori giallorossi secondo centrale di centrocampo il grande racia ninja nainggolan giocatore anche lui meraviglioso ragazzi meraviglioso giocatore che ha lasciato il cuore a roma come sapete anche lui mi pare che abbia giocato 45 stagioni a roma facendo tanta tanta differenza al centrocampo noi avevamo secondo me un centrocampo fortissimo che abbiamo smantellato negli anni un giocatore che magari lo si può criticare per la sua vita fuori dal campo ma in campo dava sempre tutto correva per quattro ed era un giocatore che veramente dava tutto in campo meraviglioso vertice un po' più alto il grande mira lempianic giocatore più tecnico magari più discontinuo ma più tecnico grande tessitore di gioco grande verticalizzatore di gioco diciamo che dopo di lui ragazzi non abbiamo mai più avuto un regista tecnico in mezzo al campo per cui a me sinceramente pianice piaceva sì però non ha mai convinto del tutto per la sua discontinuità però in man era innegabile che fosse un giocatore di classe che ti poteva risolvere le partite con le sue punizioni suoi lanci suoi assist purtroppo l'abbiamo dato alla juventus una clausa rescistoria di ricola di 30 milioni questo è il passato ragazzi purtroppo questo è successo e adesso se ne andrà al barcellona trio di attacco trio d'attacco qui ho dovuto spostare un giocatore da un lato all'altro perché purtroppo lo volevo inserire ma deve giocare dall'altra parte quindi prendetelo con il beneficio di dubbio però il giocatore non si discute allora a destra naturalmente vertice alto il grande momo salà che è stato un giocatore meraviglioso per la roma grande grandissimo giocatore che è stato svenduto per 50 milioni di euro dopo un paio d'anni che stava a roma grande assist man grande corridore sulla fascia grande veramente ti puntava ragazzi e ti saltava come niente zeko l'anno con cui c'è stato spalletti e c'era la coppia salà zeko hanno fatto gli ha fatto fare 28 gol in campionato ragazzi per cui un giocatore veramente di altissimo livello ce lo siamo goduto poco però almeno è rimasto da noi dall'altra parte io metto la mela ragazzi mi ricordate eric la mela primo colpo stratosferico dell'era pallottiana con sabatini che portò a 19 anni questo giocatore che secondo me tecnicamente è stato il più forte che abbiamo acquistato un sinistro meraviglioso meraviglioso lui rimase due anni dopo l'anno di zema dove fece 17 gol venne venduto al tottenham dove attualmente per 35 milioni di euro un giocatore a me piaceva tantissimo un giocatore che purtroppo è stato molto sfortunato negli anni perché ha avuto avuto tantissimi infortuni gravi non ha mai potuto esprimersi veramente per tutto il suo potenziale ma io lo ricordo veramente con molto molto affetto punta centrale naturalmente il grande ed in zeko che abbiamo ancora in rosa e che non so se rimarrà l'anno prossimo però è il centravanti più prolifico della storia della roma è un centravanti che fa reparto da solo è un centravanti team di manovra è un centracampi che aiuta molto la squadra magari non troppo efficace sottoporta in alcuni frangenti ma è un giocatore simbolo della roma di questi ultimi 5 6 anni spero che rimanga e spero che si possa costruire una squadra forte intorno a lui a meno per un altro paio d'anni allenatore naturalmente secondo il mio modo di vedere in questi anni chi ha fatto giocare meglio la roma e chi comunque ha ottenuto dei risultati un po più concreti anche se non si è vinto niente secondo me è rudy garzia con spalletti subito dietro che il secondo anno fece 87 punti in campionato arrivando secondo questi ragazzi è la mia squadra dei sogni della roma dell'era pallotta fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like e ci sentiamo domani perché invece faremo il flop dell'era pallotta e ci divertiremo veramente tanto per adesso vi saluto e vi auguro ancora un buon feragosto ciao 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 ciao